Il Molise non è immune dai cambiamenti climatici e le conseguenze nel futuro sono imprevedibili, soprattutto per le aree interne già penalizzate fortemente da assenza di lavoro e spopolamento. Ampio è articolato il dibattito sul tema Moby Dick con l'inizio della puntata dedicato a un docufilm dal titolo Entroterra e girato in diverse zone della catena montuosa dell'Appennino. Autore e regista il giovane studioso Andrea Chiloiro che ha elencato le motivazioni e l'idea alla base del lavoro. Noi non abbiamo concentrato il film solamente sul tema del spopolamento, ma cercando di toccare tutti i punti, tutte quelle caratteristiche che contraddistinguono le aree interne. Quello delle migrazioni è sicuramente un lato molto importante, nel senso che in questi anni anche di attraversamento delle aree interne, dei vari Appennini, abbiamo spesso incontrato delle comunità di nuove migrazioni, di nuovi migranti che vanno ad abitare in questi territori. Sulla situazione attuale, sulle prospettive, hanno fornito il loro prezioso contributo il docente dell'Università di Bologna e sociologo Maurizio Bergamaschi e il professore Alberto Tarozzi, già docente dell'Unimol. È evidente che nel momento in cui l'area interna si svuota, la presenza dell'uomo viene meno e quindi quelle forme di controllo del territorio, di presidio territoriale che per secoli ne hanno assicurato la sopravvivenza non solo della montagna e dell'area appenninica, ma anche di tutto ciò che stava a Valde, evidentemente venendo meno quel presidio che si basava su delle competenze, delle conoscenze maturate nei secoli, trasmesse di generazione in generazione. Parto da un presupposto che la climatologia, come tante altre scienze, è una scienza ma non è una scienza esatta. Quindi noi dobbiamo, quando affrontiamo queste problematiche, agire secondo un principio che vige in questi ambiti scientifici, che è il principio di precauzione. In trasmissione è intervenuto in diretta telefonica anche l'assessore regionale all'ambiente Nicola Cavaliere che ha affrontato in particolare il tema del dissesto idrogeologico. C'è un riconoscimento di un 90% di dissesti medi e gravi. Basta, voglio solo ricordare due gravi emergenze che abbiamo sul nostro territorio, quello di Civita Campomarano, dove c'è una frana storica soggetta da studi universitari di tante università europee e mondiali, c'è stata anche l'università giapponese che è venuta qui a fare degli studi sul territorio e c'è anche una grande frana di emergenza nazionale, quella di Pesacciato. Giuseppe Colavecchia, per la Casa del Popolo, ha illustrato tutte le iniziative che l'associazione ha già realizzato e programmato per il prossimo periodo, mentre il rappresentante del WWF, Lucio Fatica, ha evidenziato le difficoltà e i ritardi nella tutela ambientale. Incisivo, come sempre, l'intervento del giornalista e scrittore Paolo De Chiara, che ha denunciato i ritardi della politica per la valorizzazione dell'ambiente e della difesa del suolo e ha sottolineato il continuo aumento di malattie oncologiche che colpiscono in modo rilevante alcune aree del Molise, nonché gli intrecci, tra malavita organizzata e istituzioni.